Rispetto a quello di Castel San Giovanni, siamo sui 46.000 metri quadri, il magazzino di Milano si gira in 1.400 metri quadri, come ho detto prima abbiamo 20.000 referenze e quindi la scelta è abbastanza ampia. Le modalità di approvvigionamento, quindi l'ingresso delle merci, come tutti i magazzini, quella in cui stingiamo e siamo, ed è il nostro punto di forza, appunto la velocità del prelievo. Abbiamo parlato prima della velocità del picking e per noi la velocità del picking è essenziale. Per le consegne in un'ora, dal click del cliente fino alla preparazione e uscita della merce dal deposito, passano al massimo 15 minuti e dentro un'ora siamo a casa vostra a consegnarvi la merce. Vi posso anche dire che la consegna più veloce è stata fatta in 20 minuti, quindi siamo tra l'altro stati a livello Europa, siamo stati i più veloci come consegne in un'ora che abbiamo effettuato. Per essere così reattivi ovviamente abbiamo dei supporti informatici che ottimizzano i percorsi, le percorrenze, i giri, l'ottimizzazione di un'ora di driver per la consegna. La consegna non la facciamo direttamente noi, con personalità, ma ci appoggiamo a due provider esterni e loro si occupano della consegna finale. Il cliente può tracciare il suo ordine da quando lo inserisce, quindi può vedere anche i movimenti, quindi proprio fa tutto il tracking dei packing e a 5 minuti prima dell'arrivo a casa del cliente parte un messaggio, siamo nelle vicinanze e stiamo per consegnarti il pacco e poi ovviamente abbiamo la consegna effettiva. Il servizio Prime Now a Milano è stato veramente molto prezzato, molto di più delle nostre...